Ho comprato questa nuova pelle remo della cassa ed è una Powerstroke 3 e sappiamo tutti che le Powerstroke 3 sono belle come pelli Ma oggi Voglio provare a vedere se resiste veramente Non sembra una Powerstroke, è vero, lo so, ma vi assicuro che lo è Adesso da poco le hanno fatte anche in questo modo qua Quindi se la Powerstroke non vi piace perché ha quelle due bande nere Sappiate che c'è anche questo modello qua che è identico Ma semplicemente non ha le due bande nere che tanto ci rompono le scatole Così, ci rompono le scatole perché boh Step numero uno Togliamo la pelle vecchia Fatto Step due, mettiamo la pelle nuova È arrivato il momento, mi terrà Raga, mi ha tenuto Allora, perché ho fatto questa cavolata ragazzi? Non l'ho fatta a caso, l'ho fatta per spiegarvi una cosa Questa cosa di saltare sulla cassa l'avevo già fatta Sapevo che non sarebbe successo niente o comunque speravo che non succedesse niente Perché in realtà tutte le volte che lo faccio comunque vado un po' in ansia Perché dico, chissà se mi tiene, chissà se non mi tiene Allora, sta roba qua l'avevo vista a fare a Simon Phillips Lui diceva, per togliere tutta la colla in più, tutte le parti in più che rimangono nella pelle Saltateci sopra così siete a posto Appena montate una pelle nuova E in effetti questa roba io da quando l'ho vista a fare a lui l'ho sempre fatta E mi sono sempre trovato bene Poi più che altro mi diverte fare questa cosa e quindi lo faccio Quindi ovviamente quando avete una pelle nuova Se volete potete farlo, io non mi prendo nessuna responsabilità A parte tutto, io ho sempre provato ad esempio con delle Remo PowerStore 3 O comunque con pelli doppio strato Non è mai successo nulla Non so se prendete una pelle monostrato sinceramente Quindi prima informatevi Nonostante questo video molto stupido Io vi invito a iscrivervi al canale Andare sui miei social Instagram e Facebook E noi ci vediamo al prossimo video Ciao